L'Aquila rischia di perdere circa 600 lavoratori dei call center se non verrà applicata la clausola sociale. Dopo la verifica dell'ANAC, IMSS ha dato infatti l'affidamento provvisorio dell'appalto per i servizi di contact center IMSS dell'Aquila all'RTI Comdata Global Network. Sulle scelte e sulle procedure seguite abbiamo detto a suo tempo, inviando a Boeri numerose missive a cui fu dato riscontro parziale, ma ora, d'appalto aggiudicato, deve seguire l'immediata attivazione di un percorso di salvaguardia dei livelli di occupazione precedentemente in essere nel sito Aquilano, con la Trascom e il consorzio lavorabile. A parlare è la deputata Aquilana Dem, Stefania Pezzopane. Si tratta di circa 600 lavoratori, infatti in appalto nel caso di Trascom e in subappalto nel caso del consorzio, ai quali deve essere garantita l'applicazione della clausola sociale. Il governo chiede la Pezzopane di avvita subito ad un tavolo di concertazione. Già i sindacati nazionali hanno richiesto un tavolo triangolare con IMSS. Mi batterò, dice, affinché tutti gli occupati del sito Aquilano abbiano la garanzia del reinserimento in continuità lavorativa. Sulla stessa lunghezza d'onda, anche il sindaco Pierluigi Biondi, in attesa di avere certezze da parte di IMSS sulla nuova società che gestirà il contact center dell'istituto previdenziale, una cosa deve essere chiara. Chiunque subenterrà dovrà impegnarsi a far rispettare i livelli occupazionali e salariali degli oltre 500 dipendenti del sito Aquilano, attraverso l'applicazione della clausola sociale. Biondi, infatti, ribadisce che l'Aquila non può permettersi di perdere neanche un posto di lavoro in un settore che nel territorio provinciale occupa circa 2000 persone.